Prova a lanciare Ceccarelli, entra dentro l'aria, salta secco, due avversari, prova col sinistro e trova il 4 a 0, è un gran gol, c'è gloria anche per Ceccarelli, secondo gol per lui in questo campionato, azione da esterno puro, rientrato sul mancino, è la messa lì, Baiocco ha potuto solo sfiorare il pallone, l'ottantanovesimo, cala il poker la Juve Stabia, è notte fonda per la Paganese.